Il rischio di un dirottamento aereo è ancora presente. Le squadre speciali della Polizia di Stato, dei NOPS, si sono addestrate ad un intervento rapido all'interno di un aereo dove si trovano dei passeggeri presi in ostaggio. Quando si parla di terrorismo nazionale ed internazionale, soprattutto dopo la data dell'11 settembre 2001, dobbiamo prendere in considerazione fondamentale questa tipologia di addestramenti, soprattutto perché sono all'ordine del giorno le problematiche delle grosse crisi. Durante un dirottamento aereo è inevitabile l'impiego di tanti operatori, ma ognuno deve rispettare il proprio ruolo e il proprio compito. Per quanto riguarda la mia squadra, è preposta sicuramente alla soluzione dell'intervento all'interno di un velivolo con presa dostaggi nelle grandi masse e supportata sicuramente all'esterno anche dalle forze militari ed altre forze di polizia. Voi a conclusione di questa esercitazione catturate il dirottatore. La realtà per quello che riguarda le statistiche è altra, generalmente c'è un conflitto a fuoco. Intanto parliamo di una situazione molto complessa. Prima di parlare di cattura dobbiamo parlare di diverse fasi. Sicuramente sono precedute da una fase di negoziazione e si cerca di trovare la soluzione migliore per salvaguardare la vita umana. Tutto si svolge però nell'arco di pochi secondi una volta che è stato dato il via. Esatto, pochi secondi perché quando abbiamo a che fare con una molteplicità di ostaggi dobbiamo cercare di dare poco tempo di iniziativa al dirottatore.